Bello ragazzi sono BenWolfers e sono tornate alle mini recensioni. Oggi parleremo di Iron Danger. Il titolo del giorno è un gioco di ruolo davvero particolare poiché metterà la manipolazione temporale al centro della sua offerta proponendo un interessantissimo mix tra combattimenti tattici ed azioni in tempo reale. La giovane Kipuna è una ragazzina che vive in un piccolo villaggio e si ritrova improvvisamente trascinata in una guerra contro la regina strega Lowi che con il suo esercito del nord tesse trame di vendetta nei confronti degli umani. Messa alle strette da un improvviso attacco Kipuna scopre in un modo piuttosto rocamboresco di avere il potere di riavvolgere il tempo e ciò le permetterà di modificare le scelte fatte negli ultimi 5 secondi di gioco. Solo i 5 secondi possono apparire un'inezia ma un videogiocatore sa bene quanto può succedere anche in un arco temporale così breve e conoscere quanto accadrà potrà fare la differenza tra fallimento e successo tra la vita e la morte. Ci ritroveremo quindi ad affrontare ogni fight cercando di studiare bene anche il singolo colpo pur di capire come emergenne vittoriosi e riuscire a portare a casa la pelle. Già perché durante questa avventura la morte sarà una perenne compagna di viaggio. I nemici pestano duro e non si faranno scrupoli a tenderci agguati o ad attaccarci in superiorità numerica. Inoltre dovremo vedercela anche con trappole ambientali e piccoli enigmi che contribuiranno a dar pepe al nostro viaggio. Esteticamente parlando Iron Danger è piacevole a vedersi proprio una grafica che non fa certo gridare al miracolo ma risulta essere adeguatamente curata e sicuramente funzionale così come l'ottima interfaccia di gioco piuttosto chiara sin dai primissimi approcci. Degno compagno di ventura il comparto sonoro non assisteremo certo a virtuosismi strappa applausi ma fa degnamente il suo lavoro. La chiave di volta nonché il motivo principe d'acquisto del titolo è sicuramente il suo gameplay davvero originale ed intrigante. Avere la possibilità di switchare in qualsiasi momento tra l'azione in tempo reale e la pausa tattica con tanto di riavvolgimento degli ultimi istanti d'azione è una piacevole novità e premette un approccio ai fight unico nel suo genere. Ottima la possibilità di interagire con l'ambiente circostante per cercare di trarre vantaggi dalla conformazione del territorio o dagli oggetti presenti. Inoltre il titolo abbatte qualsiasi meccanica di grinding legando la progressione del personaggio allo sviluppo della storia, articolate in oltre 15 ore di gameplay. Di negativo devo segnare che ben presto finiremo letteralmente schiavi della necessità di riavvolgere il tempo, anche in situazioni che avremmo gradito gestire in maniera classica. Usare più di un personaggio in un titolo capace di punire anche il minimo errore ci porterà a dover effettuare più calcoli del voluto ad ogni singolo fight, ribadisco ad ogni singolo fight, facendo risultare il titolo inadeguato a chi cerca un gioco un filo più rilassante. Iron Danger intriga e seduce con il suo mix di azione classica e pausa temporale, risultando sicuramente interessante per gli appassionati del genere più smalizzati e dalla ricerca di un titolo originale ma impegnativo. Sviluppato dai ragazzi della Daedic Entertainment e il proposto su Steam a 29,99€ non mi rimane altro a dire su questo titolo. Spero che il video vi sia piaciuto e se così lasciate un like, commentate e condividete ma soprattutto iscrivetevi per non perdervi nessuna mini recensione. Grazie e alla prossima! Ciao!